Ciao bambino! Abbiamo raccattato Giorgia e insieme a Davide, Franco e Paola andiamo a scoprire le bellezze della Val Pellice Cicchetto al bar Cicchetto al bar C'è una borgata che si chiama Prana del Torno e si trova esattamente nel punto della terra che i Maya indicavano essere l'unico punto che si sarebbe salvato alla fine del mondo di qualche anno fa, 2012? 2012 2012 quindi torna in voga la premonizione Maya erano arrivati alcuni giornalisti a intervistare le persone gli autoctoni del posto non puoi capire, lì sono abbastanza... la bagna cauda è uno dei piatti tipici piemontesi ed è fatto con foglio, acciughe, aglio e in in queste zone è integrato con panna o lente e diciamo che è una salsina che si mangia in queste ciotole tipiche che avete fulghe e si intinge i vari tipi di diverture e altre cose come mi ha sentito era da là che... poi c'è una finta di stegno ciao 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 nora oh c'è più adesso c'è più Sì, no, quindi sempre la chiesa di venire in scena. Bello bello, questo Davide. Sì, 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 sì. Come era la storia del tuo viaggio? 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 questo l'abbiamo ripreso perfettamente e davide turina andrà su io voglio caduto la cosa cattiva gomito va es guarda avanti beh no tu l'hai cazzo see the blind man thing at the world taking time if you've been bad lord i bet you have and you've not been here but likely you'd better close your eyes i'll bow your head wait oh Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501